Due vittorie e una sconfitta su tre partite. È questo il bottino raccolto dalle Romagnole nella seconda giornata della Serie C, la prima disputata a ranghi completi dopo lo stop imposto al Rimini dal rinvio del match di Terni. Proprio i biancorossi di Luca Righetti si sono resi protagonisti di una grande prestazione al debutto assoluto contro la Triestina. Una gara inaugurata dalla rete realizzata da Volpe al trentaseiesimo. Tocco Beffardo per anticipare Valentini sull'ottimo assist di Buonaventura. Il raddoppio arriva al sessantanovesimo. Lo firma Variola con l'evidente complicità del portiere dei Giuliani. Due minuti più tardi accorcia Petrella ma non basta la Triestina. Vince il Rimini per 2-1. Identico risultato quello maturato a favore del Limolese a Gorgonzola contro la Gianna Erminio. Lombardi avanti grazie a Perna. Assegno al tredicesimo al culmine di un'azione molto ben orchestrata. Pari Rosso-Blu alla mezz'ora sull'asse Valentini De Marchi. Nella ripresa Limolese mette la freccia grazie a Rossetti che recupera il pallone in area di rigore e lo scarica alle spalle di Leoni. L'unica nota stonata è invece rappresentata da Ravenna. Il Sud Tirol passa al Benelli grazie a Fink che alla mezz'ora si inventa un autentico Eurogoal per sorprendere Venturi. Giallorossi che restano così a quota un punto in attesa di disputare il primo turno infrasettimanale di mercoledì, la difficile trasferta di Trieste.